Su Ipeia e Battipaia la situazione sta diventando davvero molto calda. La maggioranza del Consiglio Comunale, quella che è la base e l'appoggio per la linea amministrativa della sindaca a Cecilia Francese, si ribella al piano di zona e non le manda, certo a dire, agli uffici. Battipaia è ente e capofila del piano, composto anche da Bellizzi ed Olevano sul Tusciano. Dopo le tante polemiche e dibattito che va avanti da mesi, intervengono oggi i consiglieri battipaiesi con un documento molto forte rivolto agli uffici, ritenuti colpevoli del taglio delle ore per gli alunni disabili. Pur nella consapevolezza della necessità, scrivono, di riorganizzare il settore dell'assistenza specialistica, abbiamo sin da subito espresso perplessità in merito alla delibera numero 4 del 23 gennaio 24 con la quale il coordinamento istituzionale dell'ambito territoriale S4-1 ha stabilito ad anno scolastico in corso la direzione delle ore di assistenza socioeducativa arrecando notevole disagio a tutte le famiglie coinvolte. In Consiglio Comunale continuano, l'argomento è stato dibattuto e si è votata una delibera con la quale si davano precisi indirizzi agli uffici competenti ed anche alla sindaca con l'obiettivo di addivenire ad una rapida soluzione del problema. Qui poi arriva la stoccata. Si deve constatare la lentezza con la quale i soggetti abilitati, seppur compulsati, stanno procedendo all'aggiornamento dei pay con un conseguente disagio a carico delle famiglie interessate. Infine, la maggioranza invita tutti i soggetti coinvolti a non far diventare l'argomento un terreno di scontro politico, ma un momento di confronto finalizzato alla risoluzione della problematica. La richiesta finale è quella di garantire, fino al termine dell'anno scolastico, la copertura delle ore di assistenza socioeducativa, così come assegnate dai pay. Grazie a tutti.